Mi chiamo Reisnati Angelo, nato a Garbagliati milanese 1922. Sono partito per la Russia nel 1942, con il 37 fanteria. E poi quella del treno? E allora siamo arrivati, sono partito da Albenga, sono partito di Albenga, ho preso la tradotta, siamo arrivati in Polonia, prima della Polonia, i nostri confini. In Germania, con il Brennero. Il Brennero, ecco, e lì siamo arrivati in Polonia. In Polonia, durante Polonia, lì c'erano già i russi con l'apparecchi, che cercavano, se vedevano un treno ti sparavano. Capito? E allora, prima di sentire il rumore, c'era l'allarme, noi si dovevamo scendere dal treno. Capito? Devevamo scendere dal treno, tutti lontani dal treno. E gli russi hanno sparato, ma hanno sparato soltanto il treno. Noi eravamo giù, hai capito? Eravamo giù. E lì abbiamo trovato, quando siamo saliti, abbiamo trovato i pastrani tutti bucati dalle palotole. E la macchina è stata bucata, ha preso il buco lì, e dopo quanto è finito l'allarme, siamo saliti e siamo partiti. Abbiamo fatto tutta la Polonia, sia in Russia, in Ucraina, prima, la città era Kiev, di lì sono passato di Kiev. Lì abbiamo cominciato la storia, con il camion non ce n'era, i treni li prendevano i tedeschi, loro avevano bisogno del treno, e gli italiani, e noi abbiamo dovuto farla tutta a piedi. Da lì, dall'Ucraina, siamo andati fino al Don, al Don sempre a piedi, e lì chilometri, non so se vuoi fermarlo o no, dai. Grazie. Grazie.